Nell'ultima riunione del 2019, la Giunta regionale della Toscana ha approvato una serie di delibere che il Presidente Enrico Rossi e gli assessori hanno annunciato nel corso dell'incontro di fine anno nella sede della Presidenza in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Il primo provvedimento, annunciato dal Presidente e dall'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, riguarda l'aeroporto di Firenze e prevede la realizzazione del nuovo ponte sull'Arno e della bretella tra la FIPILI e la strada regionale 66, senza che le nuove infrastrutture interferiscano con il masterplan dell'aeroporto. Se il problema con il Mibac era il passaggio di una strada che avrebbe potuto interferire con orti e con un lago che nella zona tra i comuni, tra Lastra e Signa, si va a ricostruire, abbiamo deciso e studiato di spostare la strada. Fra l'altro spenderemo anche meno per la realizzazione della strada. A questo punto mi sembra che anche il Mibac non potrà che dare parere favorevole. Dando il Mibac parere favorevole, tutti i membri e i componenti della conferenza dei servizi esprimono parere favorevole perché le obiezioni dei comuni, dei sensi dei comuni, sono riassorbiti dal parere positivo che dà la regione toscana. In questo modo, ha detto l'assessore Vincenzo Ceccarelli, si è superata anche l'ultima criticità emersa in sede di conferenza dei servizi. Era quella della compatibilità tra il costruendo lago di compensazione nella zona Manetti e il corridoio infrastrutturale dove sarebbe dovuta passare la bretella per andare dalla Fipili verso l'aeroporto. Anche sul suggerimento dei sindaci abbiamo individuato un'altra soluzione, più ad ovest e più vicino alle abitazioni, dove realizzare il nuovo ponte. Nell'ultima seduta del 2018 la Giunta regionale ha approvato poi una proposta di legge per tutelare i diritti essenziali delle persone, salute, cure, istruzione, dimora e adeguata alimentazione. Il provvedimento, illustrato dal Presidente Enrico Rossi e dall'assessore alla Presidenza Vittorio Bugli, integra quelli sulle tutele della cittadinanza sociale e sull'accoglienza e l'integrazione per arginare povertà, marginalità ed esclusione sociale. Con questa norma intendiamo ristabilire invece il principio a un minimo di tutela di quelli che sono i bisogni essenziali della persona. Andiamo a modificare le leggi che già abbiamo e a rafforzarle in questo senso. Ovviamente se qualcuno ha un bisogno di salute, un problema anche essenziale per la sua salute deve essere curato, è già così. Però è anche vero che se uno va all'ospedale, si cura, va al pronto soccorso, poi esce con una diagnosi, è anche vero che ha diritto a poter proseguire le cure che questa diagnosi prevedano. E' giusto che se qualcuno è per la strada, come in tanti in questi giorni per l'emergenza freddo, in tanti potranno venire anche a seguito di norme nazionali, qualcuno è per la strada e non ha un tetto anche temporaneo, non ha la possibilità di un piatto caldo, insomma non è umano, ma non solo non è umano, ma produce unicamente il fatto che queste persone prima o dopo possono andare a finire nelle mani della criminalità organizzata e quindi produrre un effetto addirittura devastante dal punto di vista della sicurezza. Sul provvedimento che ora passerà al vaglio dell'Aula del Consiglio regionale è intervenuta nel corso dell'incontro in Palazzo Strozzi Sacrati anche l'assessore all'istruzione Cristina Grieco che ha descritto il provvedimento come un muro a difesa dei diritti dei bambini e che insieme all'assessore Bugli ha citato il caso di Lodi sull'accesso alle mense scolastiche. E' giusto che se un bambino è arrivato, ha un permesso umanitario, la sua famiglia ha iniziato un percorso di istruzione perché il permesso umanitario non gli viene più concesso, possa continuare il suo percorso di formazione, insomma perché non può avvenire in Toscana quello che è avvenuto a Lodi, insomma i minori, i bambini hanno bisogno di un'attenzione indipendentemente da come sia la loro provenienza e quindi riteniamo con questa norma che noi si debba intervenire che la norma dia supporto ai comuni che lo vogliono fare e lo devono fare perché poi la tutela sociale spetta alla regione, spetta ai comuni e quindi a noi tocca come regione legiferare in questo senso e con questa norma diamo anche una certezza maggiore a chi vuole intervenire per aiutare le persone in stato di bisogno. C'è anche la sanità al centro dei provvedimenti di fine anno approvati dalla giunta regionale l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ha illustrato la delibera annunciata dal presidente Rossi con cui dal primo aprile 2019 la regione toscana abolirà il super ticket di 10 euro sulla digitalizzazione da applicare a tutte le prestazioni di diagnostica per immagini come ecografie, RX e scintigrafie Il contributo era stato inserito nella finanziaria del 2011. La delibera che elimina il super ticket conferma anche per il 2019 l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni ambulatoriali a favore di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e dei loro familiari a carico Abbiamo inserito l'inizio del percorso per l'abolizione del contributo di digitalizzazione sugli esami radiodiagnostici di 10 euro che adesso gravava su chiunque facesse un esame diagnostico abbiamo indicato il percorso che porterà dal primo d'aprile alla eliminazione di questo contributo Si tratta di un investimento di 18 milioni di euro della regione toscana che non graveranno più sulle tasche dei cittadini in questo difficile momento storico Era un contributo ed è un contributo che grava su tutti indipendentemente dalla fascia di reddito e abbiamo deciso in questo momento di venire incontro ai nostri cittadini eliminando questo contributo mentre il governo sta raccontando da mesi di eliminare il super ticket ma non ha fatto nulla di tutto questo, tantomeno nella finanziaria in approvazione in questi giorni Infine, tra i provvedimenti adottati dalla giunta regionale ce n'è anche uno che riguarda l'informazione locale per la quale è pronto un bando da un milione e mezzo di euro e che è stato illustrato dal presidente Rossi e dall'assessore Vittorio Bugli Al bando potranno partecipare imprese editoriali, televisioni, radio, quotidiani e agenzie web qualificate come micro, piccole e medie imprese Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci ha consegnato al presidente Rossi un riconoscimento per l'impegno della regione nel sostegno all'informazione Abbiamo fatto una legge nel 2013, la feci proprio io quando ero in consiglio d'iniziativa del Consiglio regionale, su quella legge facciamo poi un bando di sostegno all'editoria avvenne proprio nel periodo di passaggio a digitale ora dove ci sembra che ci sia anche un po' un attacco pretestuoso da più parti a questo mondo e che invece noi riteniamo debba essere un mondo e possa operare libero di dire la sua di dare notizie e anche di formare le persone in modo particolare i giovani ha bisogno di un'ulteriore forma di sostegno Ai media il presidente Rossi si è rivolto poi invitandoli non solo a fare informazione ma anche a educare a un corretto dibattito pubblico Grazie a tutti Grazie Grazie Grazie